Il mercato della bellezza nelle regioni dell'Unione Europea ha superato la crisi legata al Covid? Stiamo ancora in fase di ripresa anche rispetto al mercato più orientale, quello asiatico? Possiamo dire che abbiamo delle situazioni diverse, paese per paese in Europa, perché l'Europa, come sai, è un mercato diverso anche in termini di consumatori. Possiamo dire che ci sono alcuni paesi, per esempio l'Italia, che hanno recuperato già i livelli del 2019, pre-crisi. Quindi il mercato cosmetico in generale si è riportato alla dimensione che aveva prima della crisi della pandemia. Altri mercati che sono un po' più lenti nel loro recupero, posso darti un esempio della Spagna, per esempio, dovuto anche al fatto che la Spagna ha una parte di mercato legata al turismo, alle isole molto forte e chiaramente ancora il turismo solo quest'anno ha ripreso veramente a livelli simili a quelli del 2019, ma nel 2021 e 2020 chiaramente il turismo è stato fortemente impattato dalla crisi. Altri mercati, UK, per dare un altro esempio, UK è un mercato molto online, molto online per dirti una percentuale, il peso del mercato online è la metà del mercato generale, quindi 50% delle vendite accadono su piattaforme online o sull'online in generale. Chiaro che lì abbiamo avuto un trend molto diverso perché durante la pandemia si è sviluppata ancora di più questa penetrazione nel mercato online e poco alla volta è ritornata l'abitudine al traffico nel physical store e quindi chiaramente gli UK non sono ancora a livello, poi hanno avuto anche la Brexit, quindi anche fenomeni un po' esterni alla pandemia e basta, che sicuramente non hanno permesso al mercato di che di ritornare ai livelli pre-crisi. È cambiato l'approccio dei consumatori nei confronti dello shopping a livello europeo, nell'uso soprattutto dell'e-commerce? Sì, assolutamente, è cambiato molto, per darti un esempio di numeri nostri, quindi riferiti a Shiseido, negli ultimi 5 anni per noi l'online è cresciuto del 150%, addirittura oggi un terzo delle nostre vendite in Europa avvengono sull'online, che assolutamente non era il caso del pre-crisi pandemica. Era già un fenomeno che stava avvenendo, lo vedevamo. Chiaramente la pandemia ha accelerato questo fenomeno, oggi che siamo tornati a poter visitare i punti di vendita fisici, l'online chiaramente ha rallentato nella sua espansione, però ha ancora delle percentuali, come vi dicevo, importantissime sul totale del nostro business e ci attendiamo che aumenteranno ancora. Ci sono differenze fra consumatori nei vari paesi europei? Quali sono le tendenze, i trend più forti dei vari paesi? Sì, ci sono differenze perché l'Europa, la bellezza dell'Europa è la diversità dell'Europa. Ogni paese ha dei consumatori attenti a cose che magari in altri paesi sono meno importanti. L'Italia è un paese dove c'è una grande conoscenza della cosmetica, quindi la ricerca è di veri esperti quando si approccia al mondo cosmetico. Chiaramente ci sono tanti trend sulla sostenibilità, sul naturale, sul clean che stanno prendendo piede. Sempre di più i consumatori si pongono alla domanda quando acquistano un prodotto se effettivamente l'azienda che ha creato questo prodotto si è preoccupata abbastanza della sostenibilità. E noi lo vediamo, lo vediamo in alcune ricerche. Perché il 54% degli adulti in Inghilterra e in Francia per esempio cercano qualcosa che esprima chiaramente un impegno verso la sostenibilità da parte dell'azienda. Quindi è chiaro che questi trend esistono in forma diversa e con un livello diverso di attenzione ma sono un po' ovunque. Poi ci sono cose molto peculiari paese per paese.